Intanto ti chiedo come nasce, se hai questa passione del canto, che esperienza hai? Allora, sin da piccolo mi piace sentire gli altri che cantano, ok? E poi di più quando la musica così, con il ritmo così bello, ecco, anche mi ispira di fare qualche balletto. Allora, sentendo che questa canzone ci dona un po' l'atmosfera di gioia o qualsiasi sentimento, allora alla fine cercavo di cantare, che era prima molto stonato, però tanto era per me stesso, quindi non faccio preoccupazioni se gli altri lo comprenono, lo godono, lo apprezzano, eccetera. Per me era per il mio piacere. Man mano, man mano, ecco, continuo questa passione, senza approfondire su come cantare, però faccio qualche, come si chiama, imitavo le persone che quando l'ho sentito, mi è piaciuto, lo imitavo su come cantare. Per questa voglia di cantare non mi è mai finito, cioè c'è sempre dentro, anche se ci sono i momenti in cui non canto spesso, in cui non faccio, però quella voglia di cantare c'è sempre. Quindi la musica e il canto hanno un ruolo importante nella tua vocazione? E questo è ancora adesso di più, perché sentendo quel proverbio di San Agostino, chi canta bene prega due volte, allora questo mi spinge di più, quindi mi dona un'altra grinta, no? Di migliorare sempre a cantare. Per me quasi adesso cantare è come parte del mio cammino, ecco. Parte del mio cammino, come Giullare, no? Giullare, come San Francesco, Giullare di Dio. Poi adesso di più, no? Perché non soltanto canta per la nostra felicità, ma anche si può fare altra cosa cantando, cioè lodare Dio, quindi ecco, ci dona di più altra grinta. Ah, quindi canta anche se è un pochino stonato, no? Capita che uno che canta così stonato, però canta del cuore, no? Ci dona la felicità, ti attrae il sorriso da dentro, anche sentendo uno che canta così stonato. E questo è qualcosa che è magico della musica, no? Ti fa sorridere, ti fa entrare in un'altra atmosfera nello stesso tempo, sentendo uno che canta. Anche cantare come la preghiera, no? Proprio così, vedendo la bellezza, wow! E invece la scelta di questa canzone, Juraismia? Questa canzone, prima di tutto perché il cantante, il cantante mi è piaciuto tanto, no? Così, la voce così, non è leggero, ma un pochino... Scura. Ah, scura. Poi, il significato di quel canto che mi attrae di più, non soltanto che è una bella canzone, ma di più perché il significato di quel canto, ecco, mi dona la motivazione sempre, soprattutto nei momenti più deboli, più difficili, di risentire, di toccare la presenza di Dio che non mi abbandona mai. Ah, per cui, no? Juraismia, tu mi rialzerai, e quello, come per dire, no? Ci sono i momenti che mi sento così, nella solitudine, però sentendo quelle canzoni, come mi mette il ricordo, guarda che Dio non ti abbandona, ti fa vivere quello spirito che comincia un po' a spegnere. Ecco, quindi, cantando così, non ti entra, ma ecco, ancora di più in quella, anche se è una canzone un po', diciamo, mondana, però, riferimento a Dio, e diventa qualcosa che, ecco, ti fa sempre più, più carico di energia, quindi, nel momento più debole, diventa il momento più significativo, no? Perché, senti quella vicinanza, tocca a quella presenza di Dio, che a volte è impossibile, perché, però, e diventa più sentito, ah, diventa più sentito, perché, ecco, tu mi rialzerai, ecco, tu metti la propria fede in quella situazione, davvero, arrivando a quella frase, E' davvero, Dio esiste, è davvero, non mi abbandona, è davvero un dono, no? La grazia. è davvero un dono, 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 che, è davvero un dono, è davvero un dono, che, è davvero un dono, che, 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info